Ne avvelena l'esistere. Che cos'è l'odio? Commento. Per i maestri immateriali l'odio è il sentimento più dannoso che insidia l'uomo. Perché ne avvelena l'esistere? Se si potessero tratteggiare su un ipotetico diagramma l'amore e l'odio, questo supererebbe di gran lunga l'amore. L'odio annienta ogni desiderio che non sia quello della rivalza e della vendetta e la sintesi di ogni negatività che in varia misura alberga nella condizione umana. Generato dalle coscienze insufficienti, l'odio si scatena nelle circostanze che lo inducono e diventa virulento al contatto con la materia. Grazie. 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 Grazie.